Buongiorno, sono Anna Valandro di Padova 2020. Sono qui per invitarvi all'evento spettacolo di domenica sera che si terrà a partire dalle ore 21. Lo spettacolo è intitolato Cambiamento in Musica e Parole con Francesco Fiore, il professor Fabio Caon e la band Contesto. L'aspetto originale di questo evento spettacolo è che trasmette libertà e partecipazione che sono gli elementi e gli aspetti fondamentali di Padova 2020. Saranno presenti anche le liste civiche associate che sono Impegno Comune e Padova Solidare e tutti gli attivisti di Padova 2020 che hanno contribuito a realizzare questo evento spettacolo. Che ne fanno appunto una grande festa aperta a tutti i cittadini di qualsiasi colore politico. Io sono Valandro Giorgio, in realtà non faccio politica, sono un amico di Francesco, suo compagno di classe al liceo e compagno di squadra. Ci sarà anche qualche grossa sorpresa Francesco, ci sarà tutto il liceo Curiel, ci sarà il mondo del basket e dello sport patavino e non solo, ci sarà tanta università perché fra i tuoi sostenitori candidati con i movimenti civici che ti sostengono cioè ci sono almeno una decina di persone, tra professori, tecnici e studenti dell'università di Padova che dire, non aggiungo altro perché altrimenti le sorprese vengono meno. Ci vediamo domenica sera alle 21 al Bastione Alicorno. Mi raccomando non mancate. Cambiamento in musica e parole.